Il tuo obiettivo Il tuo obiettivo E a me non piace vedere te Che ti sminuisce Perché non c'è nessuno in palestra? Sì, no, gli ho detto Sei uno scimmione ingrato, Mark 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 È tutto a posto Bene Non mi serve il tuo aiuto Mi dici cosa sta succedendo con Dupont? Hai sentito quello che ho detto? Un coach è un padre Un coach è un mentore Un coach ha grande potere sulla vita degli atleti U.S.A. 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 U.S.A.